Giovanni Guidetti che sapore ha battere l'Italia? No, non ha nessun sapore particolare, è bello giocare in Italia perché il pubblico è straordinario, è bello giocare in Italia perché la mia famiglia è venuta da Modena, 750 km per venire a vedere me, a vedere la partita, è bello stare in Italia per questo e non ho nessun sentimento di rivalza o niente, quindi è una partita come tutte le altre, pallavolisticamente, ma è bello essere qui, mangiare bene e vedere i propri cari. Questa Olanda fa paura però? Non lo so, dal mio punto di vista siamo talmente indietro in tutte le cose che non ho niente da festeggiare, perché siamo proprio indietro nel lavoro, è una squadra forte, una squadra con due o tre elementi di spicchio, è una squadra che ha voglia, che ha carisma, che ha volontà e che ha fisicità e quindi è un piacere allenarla. Su quest'Italia invece? L'Italia è fortissima, ha tante giocatrici, stanno provando anche loro a gestire, a cambiare, a trovare l'assetto principale, hanno talmente tante variabili che è difficile preparare la partita con loro, perché hanno quattro posti, tre, quattro, cinque posti, quattro e la partita la possono girare in continuazione, quindi è una squadra molto, molto forte.